Le amministrative a Noto si tingono di rosa. Il Movimento 5 Stelle candida a sindaco la dottoressa Francesca Sara Perna, esperta di comunicazione nota anche per la sua battaglia per il ripristino della tratta ferroviaria Noto Pachino. È la prima donna a correre per Palazzo di Ucezio in vista delle elezioni di maggio e la sua candidatura è stata ufficializzata dal meetup di Noto. Proprio ieri l'attivista Penta Stellata ha così commentato in un post su Facebook l'ufficializzazione della sua candidatura. La qualità della vita dipende dalla qualità della politica, la qualità della politica dipende dall'impegno dell'amministrazione e dalla partecipazione dei cittadini. Mi impegno a fare del mio meglio per migliorare Noto, voglio crescere insieme a voi, trasformando la nostra città in una grande famiglia in cui nessuno si sente escluso e marginato.